Sai che una delle domande più difficili che noi facciamo sempre agli esperti è ma davvero non si riescono a cogliere dei segnali, cioè davvero non riusciamo a proteggere la catena fragile, gli anelli fragili della catena che sono le donne e sono i bambini. Gli anelli fragili della catena, dice il presentatore, sono le donne e i bambini. Questo gli serve per imporre un presupposto, c'è una parte vittima e un'altra parte gli uomini che per loro natura non possono essere vittime, essendo sempre i carnefici. Come tali non sono giustificabili, i loro atti non sono mai spiegabili se non con la mera cattiveria o il raptus improvviso. Gli uomini non soffrano e se soffrano la loro sofferenza è irrilevante. Questa è la premessa. Teniamola in mente per dopo. E' certo, ed è proprio la domanda, ecco la testimonianza del datore di lavoro, no? Questa apparente, qualcosa che scatti così all'improvviso e non voglio neanche che venga derubricata come la solita donna che cerca l'emancipazione. Io ho letto già un giornale e dice, ah eppure lei era così euforica. Un attimo, a dire che lei era euforica non sono i giornali. I giornali riportano testualmente e su questo concordano decine di fonti ciò che gli amici della donna hanno testimoniato. Per lei la separazione era tutti gli effetti, tutt'altro che dolorosa, aveva l'alternativa e unilateralmente l'ha preferita a una realtà che aveva contribuito a costruire. Non c'è nulla di male a dirlo, essendo la verità, se non fosse che l'obiettivo è come sempre togliere alla parte femminile anche la sua parte di responsabilità. Posso pensare che chiunque da un giorno all'altro si possa trasformare nello sterminatore di una famiglia. Allora professore, è così? Ci sono dei segnali che noi dobbiamo imparare a cogliere e dei consigli che noi possiamo dare alle donne che vivono situazioni di separazione conflittuale? Ma in questi casi, contrariamente a quello che si pensa, è il rapporto con il femminile interiore. Ogni uomo, XY nei nostri cromosomi, ha dentro di sé una donna e noi non veniamo abituati fin dall'infanzia a trattare bene la nostra donna interiore, la calpestiamo. Per noi un uomo è un macio e se tu sapessi, Milo, quanta fragilità c'è per esempio negli uomini super palestrati, lo vedo io in terapia, vengono lasciati, crollano. Ecco un ragionamento per stereotipi. Non era certamente un macio l'omicida di cui si parla, però al buon Morelli piace generalizzare, come se per l'intera umanità il modello fossero i fratelli che hanno ammazzato di botte il povero Willy. L'uomo è macio nell'intimo, ecco rivelata la verità con la V maiuscola, dal Papa a Mattarella, dal Dalai Lama a Gandhi e Martin Luther King, tutti maci. Ed ecco allora che il disagio dell'uomo, la sofferenza maschile in tutta la sua complessità e profondità, diventa invece un mero problema psichiatrico. Questi uomini hanno tutti alcune caratteristiche. Primo, sono ripetitivi nelle cose che fanno. Due, sono accecati dall'idea di come deve essere la famiglia, la relazione, il rapporto. Tre, non accettano che la, proprio perché la loro donna interiore non l'accetta, non accettano che le donne siano capaci di avere molti mondi dentro di loro. Sono molto ripetitivi, sono vecchi, sono standardizzati. Quindi l'istinto di pianificare una vita solida e tranquilla, come stava tentando di fare l'uomo della vicenda di Carignano, è una rigidità, uno standard, roba da vecchi. Com'è allora che quel kaleidoscopio di mondi che è il femminile, poi quello che più di tutti cerca la sistemazione tramite il matrimonio? Tutto molto semplificato, banalizzato e superficiale. E quando, quando si rompe lo schema, quando in qualche modo la tua compagna, la tua moglie, la tua partner ti dice guarda che così non vado avanti, anziché iniziare un dibattito... Ok, prendiamo nota. Morelli sostiene che di fronte a una crisi l'uomo, e soltanto lui per carità, deve essere disponibile ad aprire un dibattito. Teniamola in memoria, sarà importante tra poco. E sentiamo cosa dice ora Morelli dell'uomo che non cerca il dibattito, un mostro praticamente. Incomincia sempre di più l'idea di uccidere, di distruggere tutto ciò che dentro di te è femminile. E il femminile, quando si annienta, porta via la creatività. Non sai più chi sei, tutto è oscurato. La separazione in una vera e propria guerra con i figli in mezzo. C'è ancora questa mentalità, questo pensiero, un po' di meno, oppure c'è ancora? Ma non credo che ci sia più una mentalità guerra fondaia, perché noi avvocati abbiamo paura. Abbiamo paura che una separazione possa trasformarsi in una tragedia. Io credo che soltanto un avvocato irresponsabile, quindi non un avvocato, possa soffiare sul fuoco di un conflitto. Dovete pensare che ogni due giorni purtroppo viene uccisa una donna. Gassani qui recupera uno slogan molto noto e molto diffuso. Una donna viene uccisa ogni due giorni. Un dato clamorosamente falso. Ci piacerebbe invitare Gassani a citare il nome della vittima di due, quattro, sei, otto giorni fa e così via risalendo fino al primo di gennaio, per dimostrare la fondatezza della sua affermazione. Non ci sono, grazie al cielo. Dati Eurostat. Siamo il terz'ultimo paese europeo con meno donne vittime di omicidio. Meglio di noi soltanto Grecia e Malta. Gassani dunque recupera semplicemente una formula imposta dall'industria dell'antiviolenza, una bugia gigantesca, ma almeno si adegua all'asse portante del dibattito, vittimizzazione spinta della donna e criminalizzazione dell'uomo. Ciò che dice dal pulpito dell'esperto però non corrisponde alla verità e non è l'unica volta. Tutti i giorni. Guardate, il mio studio ormai è un pronto soccorso, non è un studio regale. E l'avvocato oggi, l'avvocato matrimonialista, è diventato anche una sorta di ibrido psicologo perché mi accorgo che c'è una violenza anche verbale, soprattutto la parte di molti uomini. La violenza è sempre degli uomini, quella verbale e non solo. Durante le separazioni le donne sono invece sempre pacate e tranquille, come no? Evidentemente non gli sono mai capitate in studio donne disposte a tutto oppure di rovinare l'ex e di vederlo in galera anche con false accuse. Donne aggressive verbalmente, psicologicamente, fisicamente, donne che usano i figli per nuocere l'ex. Non bisogna essere avvocato per sapere che esistono anche queste realtà. Lo sanno i giornalisti e geometri, medici, enotaio, operaio e contadini. Solo Gassani non lo sa? Che non accettano minimamente il fatto di aver avuto notificato il ricorso della moglie per la separazione. Per cui io ho una paura incredibile tutti i giorni. Come può un avvocato oggi alimentare un conflitto sapendo quello che succede? C'è il crime clock, ogni due giorni una donna viene uccisa. E insiste. Violenza di genere spaventosa. Ovviamente noi parliamo di questa strage, ma quanta violenza tutti i giorni si consuma nelle case degli italiani che ci scivola dalle mani? La violenza psicologica, economica, sessuale. Noi viviamo una grande emergenza vera che è quella della violenza in famiglia. Violenza di genere spaventosa. Ed ecco l'elenco di tutte le violenze commesse solo dagli uomini. Le donne no, loro sono solo vittime. Contro ogni evidenza, contro le stesse notizie pubblicate dai media, oltre che contro le statistiche, l'avvocato Gassani racconta un'Italia che non esiste. Se ne parla sempre troppo poco rispetto alla gravità del problema. Se ne parla troppo poco? È l'argomento di cui si parla di più dopo il Covid, forse anche più delle elezioni in America. Noi avvocati siamo dei mediatori. Siamo i primi a mediare. Basti pensare che in Italia il 72% delle separazioni poi si risolve in via consensuale. Il 72% è l'ammontare delle separazioni consensuali? Certo, così vengono classificate, ma in gran parte sono frutto di un sussurro della moglie all'orecchio dell'ex marito. Firma la consensuale o ti rovino? Il marito sa che è vero, che lei può rovinarlo, e firma obbediente alla propria condanna consensuale, alla miseria e soprattutto alla rinuncia al ruolo di padre. Gassani lo sa benissimo, ma non sarebbe conforme dirlo. Quindi ciò significa che soltanto il 28% delle separazioni sono giudiziali quando non è possibile mediare, quando appunto c'è stata già violenza, abusi sessuali o quant'altro. Poi insinua che le separazioni giudiziali sono quelle dove c'è stata violenza fisica o sessuale. Ancora una volta l'esperto dispensa verità, che però sono solo sue. Io sono preoccupato anche perché il codice russo non è riuscito a risolvere un problema serio. Noi abbiamo avuto l'aumento del 74% delle violenze intrafamiliari durante il lockdown. E riecco i dati di telefono rosa spacciati come dati reali. Ripetiamo, si tratta di percentuali tratte dal numero di chiamate che non corrispondono alle reali persone chiamanti, che per di più sono coperte da anonimato. Una collaboratrice della Fionda ha chiamato quattro volte il 1522 per testare che servizi dessero. Pur essendo una, è stata contata quattro volte, senza contare che il 1522 dà informazioni, non raccoglie denunce. Chi lo fa, cioè la polizia, ha registrato un calo netto delle denunce, che probabilmente sarebbe una voragine se venissero resi pubblici i dati degli accessi alla app Youpol, che però la polizia si rifiuta di fornire. Insomma, ecco di nuovo una bugia prodotta dall'industria dell'antiviolenza e spacciata come vera da una TV pubblica nazionale. Noi questi approfondimenti li facciamo? Evidentemente Gassani no, e si limita a ripetere dati dozzinali. Però ama vestire i panni dell'esperto. L'aumento del 15%. Arrivavo proprio a questo, che durante il lockdown c'è stato un aumento esponenziale. Ecco che il conduttore, per essere sicuro che la bugia entri ben bene nei cervelli dei telespettatori, la ripete senza vergogna. Quello di tanti avvocati, perché i tribunali li hanno chiusi, ma i nostri studi legali sono rimasti aperti anche durante il primo lockdown, speriamo che non ci sia il secondo. Io ho dovuto inventarmi un nuovo modo di fare l'avvocato. Io ho incontrato le donne davanti ai supermercati, perché non potevo parlare con loro al telefono a casa, con l'orco di casa vicino. Io due volte ho dovuto chiamare al telefono due mariti violenti, cercando di usare tutte le parole più diplomatiche, per fermare una violenza infinita. Ha incontrato le donne ai supermercati, perché da casa non potevano. È il festival dei luoghi comuni, l'orco di casa, le donne che non possono chiamare, lui che chiama i mariti violenti. Rendiamoci conto che gran parte delle cose che Gassani dice di aver fatto, non le può proprio fare, per legge. Non può parlare direttamente con la controparte di una sua assistita. Eppure tutto viene buttato lì, non verificato e non verificabile. Tutto considerato pienamente credibile, perché a dirlo è l'esperto. Signora mia, l'ha detto l'esperto, quello che parla alla televisione. In sostanza, su questo argomento, chiunque può dire qualunque cosa, purché sia conforme a un catastrofismo portato agli estremi. Anche del ridicolo. E la vogliamo parlare della violenza assistita? Ma sì, mettiamoci anche la violenza assistita che fa buon peso. Allora il problema è questo, bisogna investire sui centri antiviolenza che stanno chiudendo. Ma magari stessero chiudendo davvero. Gassani non è al corrente del fiume di denaro destinato ai centri antiviolenza in piena emergenza sanitaria? Dei 30 milioni erogati dalla ministra Bonetti? Dei fondi per le vacanze delle donne ospitate nelle case rifugio? Dei milioni erogati dalle regioni? Della sanatoria sugli affitti insoluti delle associazioni in 900 mila euro solo per la casa delle donne di Roma? Lo sa, lo sa. Ma alla rassegna delle sue dichiarazioni compiacenti non poteva mancare la richiesta di soldi per i centri antiviolenza. Non hanno fondi. Abbiamo una magistratura con una pianta organica che è al di sotto di 2000 unità. Le forze dell'ordine sono impegnate in prima linea su mille problemi, ma dobbiamo potenziare anche le forze dell'ordine perché noi dobbiamo anche monitorare le crisi coniugali. Quante volte, per esempio, noi presentiamo denunce o querele, ma per carenza di mezzi e di uomini, purtroppo le querele non servono a niente. Lo sapete che il 54% delle donne che sono state assassinate avevano già sporto denunce? E questo dato da dove salta fuori? L'abbiamo cercato ovunque e noi di dati ce ne occupiamo costantemente, sappiamo cercarli. Eppure non si trova questa cosa del 54% delle donne uccise che aveva sporto denuncia. Magari è un dato che viene dal prestigioso Centro Studi dell'Ami, chissà. Però i dati del Centro Studi Ami non sono pubblicati da nessuna parte. Vengono citati da anni, ma nessuno li ha mai potuti, verificare e nemmeno consultare. Fatto sta che l'avvocato buttà lì il dato senza menzionare alcuna fonte. Poco professionale, per non dire altro. Ad ogni buon conto, quello che noi sappiamo è che le querele e denunce non è vero che vengano ignorate. Semplicemente vengono archiviate, in gran parte perché false o strumentali, o prive di caratteristiche penalmente rilevanti. Questo è un altro sconfitto del sistema. Sono dati, Monica, che fanno paura perché vuol dire che non c'è un cambio di cultura nel nostro paese. È importantissimo che noi sviluppiamo l'idea di come il maschile debba incontrare il rapporto con se stesso. Perché, quello che ha detto l'avvocato molto bene, il possesso, la donna oggetto, si insinua dentro le menti di queste persone. Ha capito? Il possesso si insinua nelle menti, tipo un demone. Serve un esorcista per gli uomini, giusto Morelli? E la cosa incredibile è che non c'è possibilità di convincimento dei familiari, delle relazioni. Quando inizia una separazione bisogna prendere distanze. Anche questa idea, per esempio, di rivedersi per parlarne. Se la separazione è decisa, non serve. Ma come bisogna prendere le distanze? Qualche minuto prima aveva detto che l'uomo, e solo lui, deve aprirsi alla discussione e ora dice che deve prendere le distanze. Si contraddice da solo. Coerenza a questa sconosciuta, eh Morelli? Il famoso ultimo appuntamento di solito è quello più pericoloso. È tragico. Quando un rapporto è finito, il rapporto è finito. Non serve né parlarne, né convincersi, né cambiare idea. È un'altra cosa importante. Attenzione perché ora Morelli supera se stesso. Rivelano fin dall'inizio un atteggiamento mentale. Per esempio, gli stalker, la prima serata con lo stalker, è una serata con una persona che è molto gentile, molto affabile, chiede informazioni su di te, ti farà contare la sua vita. Scriviamo quello che dice. Gli stalker, la prima serata con lo stalker, è una serata con una persona che è molto gentile, molto affabile, chiede informazioni su di te, ti farà contare la sua vita. Cioè, in pratica, lo stalker al primo appuntamento si comporta come una persona normale. Che deve fare uno al primo appuntamento? Ma no, sta preparando il suo attacco, certo. Rendiamoci conto di come la realtà e la normalità delle cose venga qui sovvertita in un allarmismo assoluto, un catastrofismo che ha al suo centro la figura maschile. Qui si chiede di fare qualcosa e il suo contrario, oppure di non fare proprio nulla. Probabilmente Morelli si rende conto di aver detto una stupidaggine e allora correggia il tiro nel modo più astuto e conforme. Sentite. La cosa che deve colpirti è il gelo che provi, perché lo stalker è gelido dentro di sé. Ed ecco il ribaltone. Per individuare uno stalker devi vedere, fin dal primo appuntamento, se senti il gelo dentro. Tutto viene rimesso al sentore individuale e soggettivo della donna, esattamente come per le denunce per stalking, che è un reato di percezione. Come tale può essere denunciato senza alcun dato oggettivo. Siamo alla follia. E non perché a parlare a uno psichiatra. È proprio una questione di sistema a cui questa comunicazione sia adegua. E quindi prepara giorno dopo giorno l'attacco per la violenza che ti vorrà far subire. Dai, qui siamo al ridicolo. Lo stalker, fin dall'inizio, dal primo appuntamento, pianifica la persecuzione che poi ti farà nel corso della storia. Ma come si fa a dire cose del genere senza arrossire? E come fa il conduttore ad ascoltarlo senza ridere? Ristretta visione della relazione. E gli scattano pericoli immensi. Monica? Milo, di questa vicenda, anche solo vedendo quell'immagine della villetta, l'inviata l'aveva appena accennato, anche della solitudine. Questa donna, non so se avesse un altro, non avesse un altro. Ce l'aveva, ce l'aveva e come, e la commentatrice lo sa bene, ma glissa. Quell'uomo che si sentiva sola, probabilmente si sentiva schiacciata, e questa è la solitudine. Sì, ma in quella solitudine ce l'aveva portata a forza o era stato un progetto condiviso? La responsabilità è di lui solo o c'è stata una incomunicabilità da entrambe le parti? Perché avere oggi una villetta, avere una moglie, una famiglia giovane, due bambini, due gemellini, maschio e una femmina, il cane, dà l'idea proprio della perfezione. Eppure in quella perfezione è avvenuto un delitto, un suicidio, una serie di omicidi così efferrati. E questa è solo questa solitudine che noi proviamo. Noi dobbiamo curare gli uomini e le donne. Non dobbiamo soltanto essere dei mezzi di produzione. Ecco, nel pasticcio del discorso una cosa corretta viene detta e viene indirizzata, miracolo, agli uomini e alle donne senza distinzione. All'idea della realizzazione ci devono essere altri interessi. Un uomo deve avere altri interessi, deve avere fantasie, deve avere hobby, deve uscire dall'idea io lavoro, casa, moglie, il domine assoluto di tutto questo. Ma non è una questione di domine assoluto. Morelli sa bene che se l'uomo esce da quello schema e ha il calcetto e ha la partita briscola, alla birra con gli amici, presto o tardi sorge comunque una scontentezza. Siamo alla banalizzazione più greve e agli stereotipi più polverosi e senza fondamento. In conclusione, ci è capitato di difendere il professor Morelli quando fu attaccato e maltrattato da Michela Murgia, ma forse abbiamo fatto male. Ci pare che lui, come l'avvocato Gassani, davanti alle telecamere abbia la smania di dire ciò che può più compiacere la visione dogmatica della realtà che va per la maggiore, quella catastrofista ed emergenziale che però non esiste sicuramente nelle dimensioni qui espresse. Il problema è che gli ascoltatori assorbono questi messaggi e si lasciano convincere che si tratti della verità, quando invece, ancora, per l'ennesima volta, abbiamo assistito a una disinformazione, a bugie ripetute e mistificazioni servite su un piatto d'argento, niente meno che da un emittente di Stato.